Un'intensa nevicata ha interessato l'intera regione Marche, con precipitazioni abbondanti, che sono iniziate nella mattinata di domenica sulle vette più alte dell'Appennino, fino a quota 900 mm, per poi raggiungere nel pomeriggio le zone pianeggianti. Come aveva annunciato il Centro Regionale della Protezione Civile, che aveva diramato un'allerta medio, i fiocchi sono scesi anche sulla provincia di Pesero Urbino. Uno scenario che FanoTV ha seguito passo passo fino a ieri, mediante una diretta trasmessa sulla pagina Facebook, con aggiornamenti in tempo reale sul sito occhioallanotizia.it. Un lavoro svolto insieme ai tanti reporter di strada, che dalla costa all'entroterra hanno inviato decine di foto e video alla nostra redazione, su paesaggi, strade e momenti di spenseratezza condivisi con familiari e amici a quattro zampe, c'è chi poi ci ha illustrato direttamente la situazione. Ci troviamo nella prima collina Fanesi, a Cucurano, in via Patuccia, sotto il cimitero del ferretto, che i più attenti osservatori potranno scorgere lì. E qui sta fioccando da circa un'ora, un'ora e trenta minuti, quasi due ore, e la neve, come vedete, comincia a coprire i campi, le piante, la vegetazione e anche la strada. E per ulteriori aggiornamenti il vostro inviato, Samuele, è pronto a riferirvi nuove novità. A presto! Se da una parte la coltre bianca regala sempre un contesto spettacolare, dall'altra però provoca dei disagi, in particolare alla viabilità. Infatti, molti comuni hanno attivato gli spazzaneve e gli sfargi sale, circa 70 invece mezzi convenzionati con la provincia in trattinazione anche durante la notte, per evitare stamattina le pericolose lastre di ghiaccio lungo le strade. Al lavoro anche i vigili del fuoco, che nelle Marchi hanno svolto per il maltempo una settantina di interventi, di cui 20 nella provincia di Pesaro, 17 in quella di Ancona, 15 nel Maceratese e altri 20 tra le province di Ascoli Piceno e Fermo. I pompieri sono stati allertati soprattutto per alberi caduti e per recuperare gli autoveicoli che non riuscivano a partire. A Piobbico invece hanno soccorso una famiglia rimasta bloccata in un rifugio perché a causa dell'intensa nevicata non riusciva più a far ritorno a casa. Sulla provinciale corinaldese può essere verificato uno scontro frontale tra due auto con il coinvolgimento di una terza vettura. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma probabilmente l'incidente è dovuto all'asfalto reso scivoloso dalla neve e alla ridotta visibilità. Tre i feriti che sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e dagli operatori del 118 e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Senigallia. Questa mattina invece i pompieri di Ancona sono intervenuti nella frazione Cassero per un'auto uscita di strada e finita nella scarpata sottostante con fitta vegetazione. La persona alla guida è stata affidata alle cure dei sanitari mentre l'auto è stata recuperata con l'autogru. Il maltempo ha indotto diversi sindaci a chiudere per oggi le scuole di ogni ordine grado come a Urbino, Serra Sant'Abbondio, Frontone, Monbaroccio, Pergola e in vari centri dell'entroterra del Maceratese colpito da abbondanti nevicate, in particolare nelle zone terremotate a Camerino, a San Saverino Marche, Monte Lupone e Tolentino. In base alle previsioni meteo della protezione civile domani il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura in dissolvimento nel corso del pomeriggio mentre i venti soffieranno in lungo la fascia costiera e il mare sarà molto mosso. La parte centrale della settimana poi continuerà ad essere caratterizzata da condizioni di stabilità e le temperature saranno in graduale aumento.